ma non trovo quando vengono a noi sono un nome comunico scusate e... e... e molto più operato molto più operato e non mi sono visto un po' di riuscire e perchè ci ha nascosto lì? chi? chi? e vediamo ma chi c'è qua? ah il fantasma il fantasma no, siamo fuori guarda! quella piccola, quella nana